Dal 6 dicembre è iniziata l'ospitalità per l'emergenza freddo alla Locanda del Samaritano nell'area del centro sportivo Montagna della Spezia. Il dormitorio potrà ospitare fino al 31 marzo un massimo di 20 persone senza dimora. Come lo scorso anno le persone saranno ospitate in moduli abitativi. Ogni modulo è formato da due stanze singole con bagno privato nel rispetto delle norme igienico-sanitarie anti-covid. Oltre all'accoglienza notturna Caritas fornisce agli ospiti cena e colazione ed è sempre presente con personale di sorveglianza. L'inserimento in struttura avviene attraverso il centro di ascolto della Caritas di via Domminzoni 43. Per l'emergenza freddo Caritas Diocesane in collaborazione con il comune mette in oltre a disposizione anche alcuni posti letto per le donne senza fissa dimora. In caso di emergenza ci si può rivolgere i recapiti telefonici del centro d'ascolto Caritas che vedete in sovraimpressione. Restano operative le altre risorse della rete territoriale. Per la mattina è possibile effettuare la colazione nei giorni di lunedì, mercoledì, venerdì e sabato presso il gruppo di volontariato vincenziano Colazioni con il Sorriso nella struttura di via Roma 138. Per il pranzo la mensa dei frati di Gaggiola per la cena quella di Missione 2000 di via Torino 114. Presso i locali di via Roma 138 il gruppo di volontariato vincenziano delle Colazioni con Sorriso mette a disposizione anche il servizio docce, la lavanderia e la custodia bagaglie. E' attivo sul territorio in servizio di prossimità dell'unità di strada della pubblica assistenza che offre alle persone senza dimora una prima risposta ai bisogni essenziali oltre alla distribuzione di generi di prima necessità. Due volte alla settimana la Croce Rossa con i propri volontari garantisce alle persone senza dimora l'unità di strada o la distribuzione di generi di prima necessità sia l'ambulatorio mobile polispecialistico che offre assistenza sanitaria gratuita. In entrambi i casi gli operatori si occuperanno di fornire anche la necessaria avvicinanza emotiva. Due volte alla settimana infine continua l'attività dell'ambulatorio di strada Se non puoi ti vengo a cercare che offre un servizio di ascolto, informazioni e assistenza sanitaria gratuita.